I nostri volti, i volti dei genovesi, sono abbastanza riconoscibili. È difficile che sorridiamo, abbiamo dei nasi pronunciati, un'aria sempre un po' severa. Stasera Serena Bertolucci, storica dell'arte, ci tiene una breve lezione sui volti dei genovesi. Logicamente i volti che i grandi pittori hanno ritratto quando sono venuti in questa città. Certo, e solo capolavori, perché è anche questa la cosa essenziale. Vale la pena di dirlo, certo. I genovesi si facevano fare ritratti dei migliori artisti in circolazione. E quindi vorrei presentarvene alcuni. Cominciamo con Stefano Raggio. Stefano Raggio è un commerciante, eccolo qui, che nel 1512 si fa fare un ritratto da Jos van Cleave, un pittore delle Fiandre, famosissimo. San Donato? Esattamente. Hai visto che mi sono preparato. Sono colpita. Sei colpita. Grazie a questo signore arrivano a Genova tre politici importantissimi. Uno è San Donato e gli altri due oggi sono uno a Louvre e uno alla Gemelle des Galeries di Dresda. Quindi in due dei musei più importanti del mondo. E non lamentiamoci. Quindi questo signore che incontrò Van Cleave nelle Fiandre fu il tramite di questa straordinaria via artistica che dal nord arriva verso Genova. Ma la cosa importante è che non si fa ritrarre con ori e argenti, ma con un rotolo di carta. Quello è la sua delega di mercator, una sorta di broker. Quindi questo signore genovese decide di essere ricordato per l'eternità per la sua capacità di essere mercante. E poi vi ho portato... Genovesissimo. Genovesissimo, certo. E poi vi ho portato Gio Carlo Doria. 1606, un capolavoro di Rubens. E la cosa straordinaria è che questo genovese si fece ritrarre come un re. Mai nessuno prima aveva osato farsi ritrarre con il cavallo bianco impennato. Era un modo con cui si ritraevano solo i regnanti. Bene, questo committente genovese volle avere un ritratto che è un autentico capolavoro trionfale. È una rivoluzione artistica voluta fortemente e pagata da un genovese. Una cosa particolare... Rubens, io penso che sarà costato un pochino. Sì, lui ha avuto molto fortuna perché Rubens era a Genova perché stava in quel momento montando la circoncisione alla Chiesa del Gesù. Altro piccolo capolavoro. Ha approfittato di questa cosa e si è fatto fare questo che è uno dei capolavori assoluti. Ecco, un risvolto di questo quadro che non molti sanno che fu scelto per essere uno dei quadri in quel museo che Hitler aveva in mente nella sua città natale. Hitler, nella sua città natale, voleva fare un museo con tutti i capolavori. Graziati! Questo fu uno di quelli, ancora l'etichetta. Poi venne recuperato, riassegnato allo Stato ed oggi alla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. Però ha anche questo aspetto di questa storia incredibile. Poi passiamo a una signora. Siamo nel 1612. Veronica Spinola Serra, una signora genovese vestita alla moda. Eccolo qua, con una gorgere. Questa decorazione che gli inglesi chiamavano lattuga. Molto più. Ovviamente non era molto pratica. Non era molto pratica. Spostarsi, girare, parlare con uno e parlare con l'altro doveva essere abbastanza complicato. Era una moda alla spagnola perché noi avevamo un legame alla spagnola. E la storia straordinaria che ha questa signora che è stata riconosciuta grazie al paio di orecchini che porta. Che era un gioiello rarissimo per le fatte che componevano un grappolo d'uva che il marito genovese, Geronimo, si ha acquistato appositamente per lei. Ed esistono ancora i documenti. I due signori stavano in Vicomele in uno dei palazzi dei Rolli. E poi passiamo a un'altra grande signora. Caterina Balbi Durazzo, 1624. Altra gorgere importante. Altro capolavoro di Van Dyck. Quindi un Van Dyck dietro l'altro. Incarna la donna genovese per eccellenza perché lei quando rimase vedova molto presto gestì il patrimonio familiare. Non ha avuto bisogno di tenere in mano il pezzo di carta come il broker, però lo sguardo non è uno sguardo da Migella di corte. Una donna molto forte che si trovò il patrimonio dei Balbi Durazzo insieme e che lo gestì. Soprattutto a aumentare, a crescere. E direi che lo sguardo, come dici tu, racconta tutto. Altro sguardo, altra dama genovese, di cui purtroppo non sappiamo ancora il nome. Altro capolavoro di Van Dyck. Eccola qua. Una dama genovese con un bambino. Ed è un po' l'opposto di quella che abbiamo visto prima. Perché se voi fate attenzione, il bimbo è un figlio maschio. Difficile da capire perché anticamente si vestivano uguali. Però ha la sua manina appoggiata sulla mano della madre. Come dire, ti proteggo io. Lei probabilmente è rimasta vedova. Lo sguardo un po' mesto lo denota. Però ecco c'è questo bimbo genovese che appoggia la mano sulla madre. Ed è una spinola. Non si sa. Per lungo tempo fu pensata una spinola. Ma non è certo. Ma non abbiamo una documentazione che ci aiuti a far uscire fuori questa signora. Sicuramente genovese, lo capiamo anche dagli abiti che ha, dall'anonimato. E da questo bambino passiamo ancora ad un altro bambino, che è il piccolo Ansaldo. Il mio quadro preferito in assoluto. Ansaldo Pallavicini è un quadro tagliato, lo vedete? Perché per un motivo ereditario il quadro venne diviso in due, tra i due eredi. Quindi sono tagliati, uno si è preso un pezzetto. Mi va a dire che uno un altro. Molto genovese anche questo sistema. Il tema di ripartizione dell'eredità. A noi nelle gallerie pubbliche rimane questo bambino delizioso che è veramente un capolavoro. E chiudo, chiudo con il più spendacione dei genovesi, che mi sembrava assolutamente fantastico. 1704, Antoine Giulio II Brigno Le Salle di Saint-Régoat, che volle farsi un ritratto dal pittore di Luigi XIV. Quindi pagò una cifra impensabile. E' ancora registrato il parere di suo padre, che diceva di lui, lui spende ciò che non sa di spendere. Che è bellissima. E che però ebbe un ritratto straordinario nel quale il velluto sembra vivo, sembra veramente reale. E questo suo sguardo molto fiero e molto genovese ci guarda dal 1704. Questa tradizione, caratteristica, moda di farsi fare il ritratto è andata avanti fino a quando? Nell'Ottocento ancora. Nell'Ottocento ancora. Solo che se voi avete fatto caso, tutti i ritratti che vi ho fatto vedere sono di pittori foresti. Infatti. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. E sono tutti dei grandissimi artisti. E questo ha fatto sì che Genova nel 600, nel 700 fosse veramente, grazie a questi artisti, un ponte tra culture. Quindi Genova diventa internazionale, veramente per la volontà dei genovesi di farsi ritrarre. Questa cosa nell'Ottocento non ci sarà più. Però ecco, lo trovo una parabola molto bella, che la voglia di apparire dei genovesi abbia fatto apparire anche la città. Certo. E dove venivano piazzati questi quadri? Erano quadri da casa, ovviamente. Sì, insomma. Però con le dimensioni che... Volevano farlo vedere. E certo, con le dimensioni che i palazzi genovesi potevano permettersi. Era il biglietto da visita, la rappresentatività della famiglia. E' chiaro che già avere un ritratto di Van Dyck, oppure da ritrattisti di Ressole, o di Rubens, voleva già dire molto. Quindi era proprio un modo di colpire chi veniva a visitare con la propria potenza e autorevolezza. Grazie Serena Bertolucci, grazie a voi che ci avete ascoltato. Grazie a voi.